Genova e morti da Mianto, il racconto di una vicenda a tratti molto occupa perché sotto inchiesta finirono gli operai? Sì, il caso Genova è un caso da due punti di vista, da un lato ha una città che ha un'altissima incidenza di morti legate all'Amianto, dal 94 oggi 3.000 lavoratori in Liguria hanno perso la vita e 3.200 si sono malati per mesotelioma, che è il tumore purtroppo conosciuto perché sicuramente è legato all'esposizione all'Amianto, a fronte di questo ad oggi non abbiamo alcun processo incardinato su chi sostanzialmente porta avanti pratiche industriali legate all'utilizzo dell'Amianto, anche quando si sapeva che ormai era una fibra dannosa, invece chi è finito sotto processo sono oltre 1.400 lavoratori e funzionari dell'Inail per le certificazioni pensionistiche legate all'Amianto che poi sono stati praticamente tutti assolti. Fu poi l'allora procuratore di Lecce nel 2012 a dare una svolta a queste indagini e a cambiare la visione dei lavoratori anche nell'opinione pubblica? Sì, allora la CGL fece uno studio legato alla mortalità e alle morti di lavoratori di determinate aziende, industrie, genovesi e portò questo esposto alla procura in un momento in cui cambiò appunto la guida della procura di Lecce che è un magistrato conosciuto nella sua carriera per le sue competenze nel campo degli omicidi colposi e della colpa nei posti di lavoro, riunì un numero impressionante di fascicoli, oltre 400 casi, in macro inchieste. Questo è stato un po' la svolta nelle indagini. Una svolta forse tardiva per arrivare a definire determinati processi, avere davvero dei responsabili perché l'Amianto sappiamo che è una malattia molto infida quindi che colpisce fino a 40 anni dopo un'esposizione, quindi è molto difficile che queste inchieste oggi, dopo così tanto tempo, trovino dei veri colpevoli. Tuttavia credo sia molto importante arrivare quantomeno a una verità perché questo innanzitutto serve alle famiglie che sono impegnate in cause civili e richieste di risarcimento. Credo anche che serva a ristabilire in qualche modo un pezzo di storia industriale di questa città. E a ristabilire anche la dignità di chi è morto e di chi si è salvato e poi ha pagato le conseguenze dell'essersi salvato con una macchia. Assolutamente. Ci sono casi paradossali di persone che sono state indagate e accusate di aver truffato, quindi non solo di aver percepito indebitamente dei benefici pensionistici ma anche di aver coscientemente truffato lo Stato. Ci sono persone che sono finite in questa inchiesta che si sono addirittura ammalate e in alcuni casi sono addirittura decedute mentre erano sotto inchiesta e questi sono appunto i casi più paradossali. Più in generale quello che si può dire è che durante questo procedimento che è andato avanti per dieci anni è un fatto che siano rimasti indietro i procedimenti che dovevano accertare chi effettivamente è responsabile di quelle morti.